buongiorno oggi un video particolare perché non voglio raccontare di modelli di strategia di tools di tecniche ma voglio soltanto ringraziare perché siete venuti veramente in tantissimi al webinar dell'altra sera un webinar sulla strategia della quale troverete il link per vedere un breve strato anche al margine di questo video e la mia scoperta è stata che ci sono veramente tantissime persone interessate al tema della strategia aziendale ovviamente sono per la stragrande maggioranza imprenditori bene mi fa molto piacere in questo webinar abbiamo parlato sia dell'economia diciamo di tipo umanistico quindi della strategia umanistica che è quella che sviluppa il lato destro del cervello cioè l'intelligenza emotiva ed intuitiva ma anche del lato sinistro cioè quello logico e razionale è più importante la pratico la teoria sono domande prive di senso ha molto più senso invece occuparsi di come gestire la propria azienda in questo webinar abbiamo veramente affrontato tante questioni tutti i modelli dell'area sinistra del cervello cioè i modelli della logica e tutti i modelli dell'area destra del cervello cioè i modelli che invece sviluppano l'intelligenza intuitiva perché sono l'unico in italia che parla di strategia umanistica beh perché ho studiato e ho studiato che diciamo le risposte che vengono date dal cervello nella parte logico razionale ai problemi aziendali ma in generale ai problemi della vita diciamo che hanno un'efficienza del 34 per cento circa statisticamente quelli del lato destro hanno un'efficienza praticamente doppia ma con una particolarità che se andiamo a vedere invece i manager gli amministratori delegati proprietari d'azienda i soci qui invece la competenza arriva fino all'85 per cento quindi è più del doppio diciamo delle risposte che ci possono essere date dal lato logico razionale ecco allora io voglio ringraziare tutti quelli che sono venuti a questo webinar siete stati veramente tantissimi tanti mi hanno chiesto di rifarlo lo rifarò probabilmente a fine settembre ottobre vedremo adesso ci prendiamo un attimo di pausa anche perché io devo ricevere le 20 persone che hanno chiesto appuntamento gratuito con me nelle giornate di lunedì martedì mercoledì come avevo detto e tutte queste giornate sono state riempite di richieste di consulenze gratuite mi fa molto piacere e spero che poi da questo magari qualcuno di voi diventi anche mio cliente insieme ai tanti altri imprenditori che sono soddisfatti ricordo a tutti che si tratta di una finestra che io concedo ogni tanto quindi questi 20 appuntamenti gratuiti li do a tutti coloro che hanno voluto diciamo così darmi fiducia e consentirmi di raccontarvi questa materia meravigliosa che è la strategia aziendale non vedo l'ora di vedervi in appuntamento nelle prossime ore e ringrazio tutti quelli che sono venuti al webinar di strategia dell'altra sera siete stati tantissimi davvero tante grazie a presto